Al Via il Carnevale Stilese, organizzato dalla parrocchia con le varie associazioni e i vari gruppi parrocchiali. Quest'anno abbiamo deciso di unire un pochino le forze per far divertire sempre di più i nostri bambini, ma comunque l'intero paese. Io faccio parte del coro, il coro degli angeli, rappresento anche le catechiste. Abbiamo unito tutti i gruppi quest'anno per divertirci tutti insieme. Come abbiamo detto il tema sono le favole, abbiamo preso due favole come punto di riferimento. Alice nel Paese delle Meraviglie e Biancaneve. Abbiamo detto di unire un pochino le forze, ma sicuramente lo sforzo maggiore è stato quello dei nostri animatori, che ogni sera si sono riuniti per preparare i costumi, per preparare i balli con i bambini e anche della nostra palestra, che è stato il gruppo che ha animato l'intera giornata. Noi cerchiamo sempre di fare qualcosa che rimanga. Allora, innanzitutto, come ho già detto prima, per realizzare questo carnevale abbiamo dovuto unire un po' tutti le forze, quindi volevo fare un ringraziamento innanzitutto a Don Chiellino e a Don Antonio, quindi a tutta la parrocchia, alla palestra, ai ragazzi dell'oratorio, i cori, tutti quelli che hanno realizzato i costumi, quindi le mamme che sono impegnate dai bambini, sempre le signore della palestra, quindi tutti coloro che hanno dato una mano e anche e soprattutto a Mario e ad Anna Maria Fiorenza. E quindi ringraziamo tutti e speriamo di vederci il prossimo anno. Io sono la rappresentante degli animatori, infatti la parrocchia ha deciso di organizzare questo evento in collaborazione anche con l'oratorio parrocchiale Don Bosco. Ci siamo riuniti tutti gli animatori con i bambini e abbiamo organizzato dei balli per animare anche noi questa giornata. È un evento che c'è molto a cuore perché pensiamo che c'è bisogno di persone che animino questi paesi che sono un po' morti, abbiamo bisogno un po' di vita. L'estra di Luciano Galati cerca di essere presente a ogni evento in ballata e a stilo. Certamente per noi è il terzo anno che diamo una mano a questi ragazzi che veramente c'è un grande lavoro dietro sia come animazione sia come altre strutture. Peccato che mancano altre associazioni quest'anno rispetto al primo anno che era abbastanza consistente il numero di partecipanti. Noi ogni volta che ci chiamano per coinvolgerci in queste cose siamo in prima linea perché io dico che l'unione fa la forza e animare questa situazione, questa manifestazione per noi è come divertirci in palestra. Grazie per la visione!